Ho giocato le prime due ore di Rise of the Ronin e sono pronto, anzi posso con grande onore e grande anche responsabilità parlartene in questa anteprima. Un'anteprima sicuramente un po' particolare perché purtroppo comunque sia ci sono dei paletti dati da diversi embarghi quindi non posso addentrarmi troppo in certi dettagli ma posso comunque raccontarti le mie prime impressioni su una porzione ben definita di gioco di questo nuovo titolo di Team Ninja ovvero Rise of the Ronin. Un gioco che di fatto ha questa grande impronta storica, molti fatti, avvenimenti, date, location, si parla molto di storicità in questo gioco ed è un tratto distintivo che si va a mescolare naturalmente con un gameplay sicuramente molto interessante. Ora sia chiaro per favore, per favore una cosa che io voglio cercare di evitare il più possibile, una cosa che voglio cercare anche di dirti subito perché tanto purtroppo è la prima cosa che si fa quando si vede un videogioco è Ah ma è tipo? Oppure ah ma è praticamente come? Ecco no. Cerchiamo di evitare questi paragoni perché è ovvio che mi viene da pensare che vedendo queste immagini, vedendo questa ambientazione subito il paragone più vicino potrebbe essere a Ghost of Tsushima oppure a Sekiro. Ecco, leviamoci di torno questi paragoni perché non servono assolutamente a niente. Rise of the Ronin infatti è un titolo che inizialmente mi aveva un po' destabilizzato perché onestamente vedendo le varie anteprime, vedendo insomma i vari trailer che erano usciti antecedenti poi a metterci effettivamente le mani sopra, sul punto di vista tecnico io avevo un po' i miei dubbi dicevo beh sì però insomma c'è altra roba in giro anche magari uscita nella generazione precedente questo titolo comunque essendo solo su PS5, insomma ci mancava un po' di ciccia ed effettivamente giocando poi al gioco con tra l'altro tre modalità grafiche ecco giocandoci comunque in modalità prestazioni a 60 fps posso dirlo? lo devo dire? beh lo dico gira sorprendentemente bene e si vede sorprendentemente bene essendo un open world bisogna fare quel classico trade-in cioè mi dedico alla costruzione di un mondo di gioco che da un certo punto di vista con un certo colpo d'occhio risulta gradevole oppure spendo zilioni di ore a dedicarmi ad ogni singolo e minuzioso dettaglio ecco queste sono scelte che molte produzioni devono fare non tutti le sanno fare in maniera equilibrata alcuni invece riescono a fare tutto quindi un grande open world, grandi dettagli super curati però insomma bisogna capire sempre tempi di sviluppo e soprattutto produzioni e quella di team ninja secondo me si è andata proprio a come dire, navigare, ad esplorare, a tuffarsi all'interno di un genere comunque molto complesso mischiando però tutto quello che è una struttura open world molto classica al loro stile di combattimento, al loro gameplay che è molto soddisfacente quindi il comparto tecnico funziona perché comunque il colpo d'occhio secondo me anche dalle immagini che potete vedere sono dei birolli non registrati da me ma proprio imposti da playstation però comunque sia secondo me il colpo d'occhio generale è gradevole è ovvio che andando ad avvicinarsi a certi dettagli si nota una certa tra virgolette semplicità nel punto di vista delle specifiche texto però qui veramente è andarsi a mettere con la lente di ingrandimento e non vorrei soffermarvici neanche più di tanto in generale però ci sono dei bei scenari, delle belle costruzioni ecco mettiamola così proprio dei paesaggi, delle città perché comunque a differenza di quanto ripetevo all'inizio uno potrebbe dire ah ma è Ghost of Tsushima, eh no perché qui sempre per tornare al punto del quanto è storico questo gioco quanto è concretamente legato a certi momenti importanti del Giappone eh qua comunque c'è un bel mix perché c'è quell'influenza dell'occidente che arriva nell'oriente e che inizia comunque sia a vedersi anche proprio nelle strutture le città che iniziano ad avere proprio la forma di città e non più di piccolo e villaggetto o meglio ci sono pure quelli però ci sono anche delle chiamiamole grosse metropoli quindi con strutture molto più occidentali ecco con magari dei posti un po' più particolari dei mercati un po' più particolari insomma mi è piaciuto anche questo mix tra passato, presente e futuro dove si può proprio percepire quello scorrere del tempo e quell'influenza del domani che sta arrivando nello ieri ma il gameplay com'è? perché questo Rise of the Ronin per il momento ripeto si parla solamente delle prime due ore quindi c'è ancora molto da poter esplorare e mi ha regalato per il momento non poche gioie perché il gameplay è proprio soddisfacente c'è un bel mix perché da una parte si possono prendere appunto le classiche katane oppure le doppie lame oppure le lancia un po' più lunghe e dall'altra ci sono invece questa influenza dell'Occidente con pistole, fucili ed è carina questo mix, mi piace molto trovo interessante appunto questo mix perché ti permette effettivamente in ogni combattimento di improvvisare un po' cioè non è il classico combattimento sempre attacca e poi para no, si fa questo ma a un certo punto io se mi rompo le scatole tiro fuori il fucile e gli sparo ecco si può fare anche questo c'è questo grande senso di libertà perché naturalmente si può costruire il proprio personaggio il proprio protagonista in funzione naturalmente di build specifiche che sarai proprio te a scegliere dove andare a dare priorità vuoi dare priorità alla forza? è stretta anche l'intelligenza perché questo si lega ad un primo assaggio che ho avuto modo di vedere perché in questo gioco le scelte che si fanno i dialoghi che si sceglieranno le decisioni in battaglia che verranno fatte daranno molte ripercussioni all'intera vicenda cambiandone inevitabilmente anche il finale e questa cosa il gioco ovviamente la fa capire fin da subito anche all'inizio non do alcun tipo di spoiler però sappiate bene che i protagonisti all'inizio sono le lame gemelle quindi questi due esseri umani questi due gemelli appunto che sono legati fin dalla nascita dalle loro innate abilità e naturalmente un legame molto forte ma questo legame quanto durerà e sarà messo alla prova? scopritelo in Rise of the Ronin ora parte il momento spottone però c'è da dire che sulla storia appunto non voglio dire niente adesso in questa anteprima io vedo la storia e non dirò nulla perché? parte perché c'è l'embarco e poi perché questa preview voglio che sia anche un po' un primo blocco della recensione e andare poi ad integrare invece tutto il resto spoiler free o meno nella recensione completa quindi per ora storia non dirò niente certo è che però e questo va tenuto in considerazione questo continuo influenzare del protagonista con le vicende di gioco bisogna capire quanto effettivamente sarà cruciale perché una delle cose che io adesso mi sono segnato come punti in dubbio è proprio questo e cioè va bene le scelte va bene il combattimento va bene tutto ma poi quanto saranno d'impatto queste scelte perché magari spesso e volentieri ci sono stati dei titoli dove ti dicevano eh sarai in controllo del tuo destino e poi invece due grandi scelte che inevitabilmente non potevi svincolartici troppo qui invece per ora mi sembra di percepire che effettivamente si hanno tante scelte a disposizione che possono influenzare in qualche modo l'andamento del gioco bisognerà poi tirare come dire le somme alla fine dell'avventura e un altro aspetto importante di questo gioco che lì per lì non dice vabbè ma a me che me frega e invece bisogna dargli conto sono i legami essendo un open world si ha questa impressione perlomeno mi ha dato per il momento questa impressione di esplorare appunto un grande territorio e fin qui uno potrebbe dire beh grazie frecchie sono così gli open world esplori delle mappe molto grandi sì ma qui questa dinamica del legame che è data in funzione di come ci rapportiamo con certi personaggi chiave e di come si va ad agire all'interno dell'open world mi piace molto perché anche questa se dovesse avere delle ripercussioni sul lungo periodo magari diventa veramente una bella feature anche piuttosto originale ad esempio liberare degli avamposti liberare dei piccoli villaggi dalle presenze nemiche va ad incrementare il rapporto di fiducia diciamo così che si ha con quella porzione di mappa la mappa che per ora neanche l'ho potuta vedere tutta però non mi sembra enorme ma mi sembra anche abbastanza contenuta e densa di magari posti di interesse il che lo trovo sempre e comunque meglio di invece magari avere il desertone gigante dove non c'è niente quindi meglio così che invece avere appunto il mondo vuoto poi ripeto bisogna andare più in profondità e sarà quello che farò poi nelle prossime ore di gioco e poi quando se ne riparlerà appunto con la recensione però per ora solo buone impressioni il combattimento ha tutto questo suo sistema di dinamicità appunto come dicevo prima dello switch e delle armi e del passaggio magari anche a diversi stili di combattimento ma soprattutto ha questo bel modo di amalgamare le parate le schivate gli attacchi gli attacchi leggeri gli attacchi pesanti che devo dire mi sta regalando grandi gioie sulla difficoltà non posso secondo me addentrarmi ci troppo perché per ora sono comunque ancora in inizio gioco ho avuto dei momenti un po' difficili però c'è comunque la possibilità di scegliere ci sono tre livelli di difficoltà io però sto giocando a quello intermedio quello di default ma nulla vieta di cambiarlo in qualsiasi momento e magari ecco farò anche dei test su questo perché comunque ci può stare magari uno non ha tutta quella dimestichezza con i tempi delle parate perché si basa molto anche su questo oppure vuole una sfida più difficile bisogna capire il gioco cosa vado a offrire anche su questo punto di vista e quindi tra una parata e l'altra tra un'esplorazione e l'altra tra una cavalcata a cavallo immancabile anche questo gioco e l'altra e devo dire che al netto di impressioni magari iniziali non proprio entusiasmanti cioè comunque mi sono approcciato al gioco dicendo vediamo un po' forse non è neanche trappo nelle mie corde invece l'ho giocato e per il momento devo dire mi ha catturato e già questo fattore secondo me va tenuto in considerazione perché magari anche te vedendo l'ambientazione vedendo il genere sapendo anche magari un po' il pedigree del team che c'è dietro a questo gioco potresti dire ma ne vale proprio la pena ecco per il momento è un parziale sì ci sono delle criticità che andranno poi esposte ma ne parlerò per bene anche nella recensione completa bisogna parlare un grazie infinite naturalmente a playstation per avermi mandato il codice di gioco con così largo anticipo penso finalmente sia una delle anteprime con più largo anticipo che abbia mai fatto perciò sono molto contento per portare innanzitutto oggi questa anteprima e a ridosso poi dell'uscita non so se potrò dire la data nel caso apparirà qua a schermo è la data della recensione perciò quindi per ora Rise of the Ronin eh hai capito sto Ronin zitto zitto 4-4 l'attesa quindi è per la recensione completa ma nel frattempo per guardarti l'ultimo video che è uscito finora che trovi qua a destra oppure a sinistra la playlist del Frank News con tutte le notizie per rimanere sempre aggiornato sul mondo videoludico tecnologico e poi basta perché altrimenti sarebbe un TG grazie a tutti i nostri